La OSAI ASSPA nasce nel 1991 dall'idea del suo fondatore Carlo Ferrero, nell'intento di realizzare soluzioni per l'automazione dei processi industriali. Il focus sulle esigenze del cliente si traduce in soluzioni dedicate. La passione per i dettagli, il piacere di realizzare sistemi innovativi efficienti e dal design ricercato distinguono i prodotti OSAI nei mercati internazionali. La dimensione umana e familiare dell'azienda, attenta alle necessità dell'individuo, garantisce spazi, aree di lavoro confortevoli, creando un grande senso di appartenenza e responsabilità nel personale. Inoltre, è proprio l'attenzione che da sempre la OSAI ripone nei propri collaboratori affinché possano esprimersi al meglio a permettere il raggiungimento di obiettivi e vincere le sfide dei mercati internazionali. Questa filosofia imprenditoriale vincente ha permesso in oltre 25 anni una forte crescita fuori dai confini nazionali, con un livello di export superiore all'85%. L'headquarter della OSAI ASSPA si trova in Italia a Parella, nel cuore del Canavese, all'interno della storica e centenaria cartiera, le cui origini risalgono al 1400. Di recente, l'azienda ha ampliato l'area di produzione in due nuovi plant situati nei pressi della sede storica, occupando complessivamente un'area di 7.000 metri quadrati, nella quale operano oltre 150 persone. Oltre alla sede italiana, OSAI è presente con proprie filiali e risorse in Germania, in Cina e negli Stati Uniti. È operativa inoltre una vasta rete commerciale con oltre 47 distributori presenti in tutto il mondo per garantire servizi e supporto ai propri clienti. La ricerca di soluzioni e tecnologie innovative è alla base di ogni prodotto OSAI. Quotidianamente, oltre 40 progettisti divisi in tre dipartimenti, meccanico, elettrico-elettronico e software, progettano soluzioni innovative e applicazioni personalizzate che si tradurranno poi, al termine della fase di assemblaggio e avviamento, in strumenti efficienti per la produzione dei nostri clienti. Fondamentale alla fine del percorso è la fase di installazione e avviamento del prodotto nella quale il sistema si integra nel processo produttivo del cliente. Questa attività viene svolta con professionalità e competenza in ogni parte del mondo da tecnici qualificati che appongono l'ultimo tassello a un processo che nasce da un'idea e si concretizza in un prodotto di alta tecnologia tutto italiano. L'esperienza maturata in oltre 25 anni di attività ha permesso ad OSAI di essere uno dei pochi player al mondo in grado di offrire soluzioni tailor-made per automatizzare processi industriali rivolti ai mercati dell'assemblaggio, della micromeccanica, dell'elettronica e dei semiconduttori.